Farò del mio meglio. Mi attrezzerò. Siamo alla Miano Food Week, tanti eventi, 25 eventi, pare che quello più noto, più pubblicizzato, più atteso sia quello in cui i due sottoscritti dovrebbero cucinare qualche cosa. Intanto partiamo da lontano, tu da dove arrivi? Io arrivo da Caltanissetta, vengo dal cuore della Sicilia. E quindi preparerai un piatto tipicamente siciliano? Eh beh, ovviamente, ovviamente. Cucinerò della pasta corta con pesce spada, melanzane e mentuccia. Io invece vengo da Palermo, io avrò una ricetta che sta tra Palermo e la Campania. Abbiamo ovviamente una giuria, una giuria di eccezione, fatta da colleghi, fatta da corrotti, sono stati pagati agli studenti per premiare colui che è più bravo e più buono a lezione, agli esami. Lui, lui. Si vincerà. Vincerà il professor Russo. Diciamo che finora possiamo soltanto dare il premio Nobel alla panza. Diciamo che finora possiamo soltanto dare il premio Nobel alla panza. Diciamo che finora possiamo soltanto dare il premio Nobel alla panza. Diciamo che finora possiamo soltanto dare il premio Nobel alla panza. Diciamo che finora possiamo soltanto dare il premio Nobel alla panza.